No, guarda che per questo punto... Come scopo di Lucina? Sono la capazzina di questa Lucina. Ah, vieni Lucina, vieni! Venite provate, venite provate. Tutti ci danno ai suoi parmi. Tutti ci danno ai suoi. Eccoci. 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 Aspetta che basta, c'è più voglia di spedere. Aspetta che basta, c'è più voglia di spedere. Aspetta che basta, c'è più voglia di spedere. Ecco Lucia. Lucia, che ti è successo? Sei calda? Eccoci. Sì. All'inizio del nuovo anno scolastico impochiamo Dio nostro padre per intercessione di Maria, mamma di Gesù. Sede della sapienza, perché Gesù aveva una mamma e quindi chissà quante volte gli ha preparato una cartella per andare a scuola. Sede della sapienza, perché gli uomini che sostenga tutti gli alunni, gli studenti, gli insegnanti, perché gli uomini sappiano essere quelli illuminanti delle nuove generazioni e gli altri impegnandosi quotidianamente si preparino ad affrontare la vita familiare e sociale. Preghiamo anche i bambini e i bambini che per la prima volta entrano nella scuola perché fin dal primo giorno possano crescere nella serenità e nella pace. E preghiamo per i ragazzi di ogni lingua e colore, per le famiglie, la nostra comunità di fede e l'intera società in una collaborazione aperta e responsabile per il bene di tutti questi bambini. Padre della luce, fa di questi tuoi figli, alunni e insegnanti, genitori, i discepoli di quella sapienza che ha come libro, cattedra e maestro, il Cristo tuo figlio. Assisti e protetti tutti i membri della comunità educante e rendi fecondo ogni sforzo sincero perché le nuove generazioni siano promosse nella scuola e nella vita. Aiutaci a dare il valido contributo all'edificazione della civiltà dell'amore, all'onda e gloria del cuore. Per Cristo nostro Signore. Amén. Amén.